Sì, tu? Io... Non parla rumeno? Non le piace? No, è carino. C'è un tizio che abita di fronte a noi e che guarda sempre qui. Guarda qui? Come? Ogni volta che guardo da quella parte, lui sembra che guardi me. Ciao, tesoro. C'è un motivo particolare per cui stai in piedi al buio? Ti va di venire da me per un drink? Sì. Hai mai notato qualcuno che ti osserva in casa? No. Quell'uomo ci spia da quando siamo arrivati. Oppure sta fissando la donna che lo sta fissando? Cos'è successo? Hanno trovato una donna assassinata in casa. Hanno trovato la donna con la testa muzzata. C'era un uomo al cinema che mi ha seguito al supermercato. Ti ha seguito? È lui. Ho bisogno di capire perché quest'uomo mi sta seguendo. Così a volte io guardo cosa fa la gente. Ti prego, dimmi che cosa vuoi che faccia. Voglio che tu mi creda! Ero certo che mi avessi visto. Ho sentito delle grida da qui, ok? Apri la porta, per favore! Fantastici su una ragazza carina. Che ti ricambia lo sguardo? Nessuno mi aveva mai notato prima.